Un rilancio del manifatturiero da una parte, un tasso di disoccupazione ancora sopra i livelli di guardia dall'altra, la ripesa incerta e a tratti incespicante della zona euro sta tutta in questi dati. Le buone notizie arrivano dall'indice calcolato in base alle proiezioni dei reparti vendita delle aziende che per la prima volta dal 2007 indica espansione in tutti i paesi del blocco. In crescita Germania e Italia, quest'ultima ai massimi da tre anni, stabile la Spagna, soltanto la Francia fa registrare una battuta d'arresto. Numeri a cui purtroppo fanno da contraltare quelli sulla disoccupazione nella regione, rimasta a marzo all'11,8%.